Salve a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti dal vostro Dark Chaos 92 Sto registrando questo video precisamente, vi dico subito, perché probabilmente mi metterete a ridere Alle 5 e... eh sì, dopo domani Alle 5 e 48 Non so se si vede bene Adesso proverò a farvelo vedere qui sotto Vediti Please, vediti Vabbè, non si vede Comunque sto registrando questo video alle 5 e 48 Non so se si vedrà Del mattino Praticamente, ragazzoli, ho scoperto da un mio iscritto proprio ieri Che praticamente lo starter pack Quello da 30 euro Che potete trovare appunto nella sezione negozio di Fortnite Si potrà acquistare a 1 euro Voi in questo momento direte Ma Dark, è impossibile acquistare lo starter pack da 30 euro ad 1 euro Comunque vi lascio il link in descrizione del ragazzo Ovviamente che tramite lui l'ho scoperto Perché mi sembra anche giusto così Niente, praticamente cosa dovete fare Mi spiego tutto Adesso Dovete semplicemente recarvi Farvi una bella doccia Finire di farvi una bella doccia Vestirvi puliti E andare con la vostra famiglia A un GameStop GameStop Cosa sarebbe? Sarebbe un negozio Di videogiochi E tanto altro Di ovviamente videogame Roba del genere Dove praticamente Cosa succede? Arrivati lì Ovviamente vi dovete munire Prima di andarci Di un gioco Che sia uscito Un anno fa Ok? Da un anno fa in poi Cioè nel senso Se è un gioco di due anni fa Non va bene Adesso è un gioco massimo di un anno fa Non di più Da un anno fa ad adesso Portare un gioco Qualunque Qualunque penso da Xbox Playstation Quello che volete voi Dopodiché Quando andate lì Mi dite precisamente Guardi Io voglio acquistare Lo starter pack Da 30 euro Di Fortnite Quello che c'è nel negozio Solamente che Ho saputo Che c'è questa piccola promozione Che se porti un gioco Di un anno Massimo di un anno Di uscita ovviamente Più un euro E voi mi date appunto Questo starter pack A un euro Vi legate lì Vedete questo qua E loro vi daranno Lo starter pack Da 30 euro Adesso non so come funziona Benissimo Può darsi che vi daranno Il Come si chiama La Come si chiama L'etichetta Tipo Una sorta di card Dove ci sta il codice Voi inserite il codice E poi Vi da direttamente Lo starter pack Io L'ho saputo così Quindi Vi lascio il link In descrizione Del ragazzino Che appunto Me lo ha detto Perché è giusto anche così E niente ragazzoli Spero che questo video Vi sia piaciuto E vi sia stato molto d'aiuto Anche perché lo starter pack A me diciamo Che io non lo compro Perché punto primo Non ho avuto mai console Punto secondo Non mi interessa Perché la skin Non mi piace Poi 30 euro E come se stessi pagando 20 euro Di skin leggendaria E più 10 euro Che le shop Di 1000 V-Bucks Perché comunque Nello starter pack Come potete vedere Ci stanno I 1000 V-Bucks E in più L'altaplano Il piccone La skin E queste robe qui Quindi Ragazzoli Che vi devo dire Grazie a tutti per la visione Noi ci vediamo Prossimamente Con nuovi video Nuove live Un bacino emesso Dal vostro Del caso 32 Vi voglio bene Ragazzoli Un'ultima cosa Un'ultima cosa Vi dico subito Che non sono sicuro Che questa cosa Sia giusta Perché comunque Il ragazzino Che l'ha detto Non lo so Penso l'abbia fatto Non lo so Quindi Io vi dico solo Quello che ho sentito Punto E basta Vi voglio bene Ragazzoli Bella brothers Ciao